oh ciao vai message ghoul no winkle no winkle torna da me stronzo dove vai bentornati ricazza qui con pokémon snakewood e devo sempre aggiornarvi su le solite cose tipo queste fire blast perché si diventa un mostro procione ho imparato oltraggio quindi ora ho anche una mossa tipo drago e farò il culo a tutti inoltre il merito catturato si è voluto una zoom barrel solamente che mi sono accorto di una cosa non ha macro forza quindi totalmente inutile non lo utilizzerò e il tipo water disease cosa e bando le ciance allora bababababa ok a catroia e così mandi blissi eh sembra un lavoro per fungo pobo sky ha percat everything si 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 va non ha visto niente ok madonna e senti vaffanculo hello akbar boom home beast oddio la merda si è evoluta in una merda ancora più grande con una keyline in più però è comunque merda non mi hanno tirato la merda addosso per un po' di puntate me la tirano addosso adesso perfetto sembra un clima molto allegro proprio sono i festoni madonna muori male muori 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 ecco vediamo se posso andare posso andarci ehi ok c'è un intruso chi sarà mai sei godot waiting for godot visitor's pass è sparito ok penso che esso possa andare di qui e infatti chiuso oh ciao tipo che non conosco sei veracity per caso ah ciao chi sei sono guida professor bersend me oh guarda un po' che tempissimo devi andare nel sgabuzzino abbiamo metto una macchina intelligente per ripresa che ha convincito a uccidere i ricercatori questo è inaccettabile quindi puoi andare a fermare per favore do you always ask complete strangers to fight or missy the robot for you beh sembri forte e ti amato quel professor birch penso sia questo prima di entrare salverei e farei save state quindi mettiamo davanti uno resistente lui switch 3 2 1 io non guardo bene ora guardo scusi ma è un magnemite quindi devo parlarci bzz 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 no sono i magnemite di mystery dungeon cotododoco azzuril x32763 vuole lottare mando procione è un pokemon se pokemon è un coso aha ok l'ho scottato non dovevo farlo siiii si caculo si si x32763 data was led to the pochex ok vuoi dare un soprannome vuoi dare un soprannome a coso si e ti chiamo cushi ecco glados magiana ciao si 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 ok andiamo alla palestra ecco siamo nella palestra di winona penso quindi di mettere davanti tumore ok ok winona non c'è quindi zoog lo zombie si è alzato questo zombie c'è qualcosa di familiare ta 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 che cazzo è dead face wow such zombie dodge era dall'episodio 3 che non ne vedevo uno tu muori no no chi se ne frega questa è la vendetta è la vendetta scarru senti non voglio rompettura di balle quindi vai via cazzo si mori 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 si boom sakalaka pim pom bam ho vinto guag fermati non ti lascerò mettere almeno su mia sorella sono fratello ok quindi ah che presto verresti ti vuole lottare mando a psi pig aspetta ah mi li hai ricaricati perfetto ok ok mettiamo raindance nope weather ball oh oh vai torcoll ok raindance ancora no non osare farlo potresti finire male no potresti finire male gesù flerion teniamo lui e ci muore cazzo dai eccolo lì e raindance sblam cazzo ne va bene ok basta gesù cristo oh bene mi è rimasto una weather ball plastica eh no sblam siiii perchè tutti hanno i leggendari li cagano dal culo ehi anch'io le hiperpozioni però non servono un cazzo si boom shakalaka pim pom scottamelo ehi vaffanculo lascio finire a te vai 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 parapam 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 non è winona è qualcosa di strano bene userò la spada sacra vai falchion colpisci medeus è morta ciao scusa stava levitando ok quindi proporrei di andare ad alghepoli perchè si eeeh 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 se allora andiamo a porto al ghepoli scherzavo come ci vado a porto al ghepoli magari ne devo entrare in questa grotta non so ok eeeh sono da cosa c'è con su tu vieni con me no cosa no mi da glumadio che cosa sto che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è è